E' giunta la 17esima edizione, la manifestazione Noi Artisti di Questa Terra, affermandosi come appuntamento fisso di promozione del territorio, ma soprattutto degli artisti locali. Montorio nei Frentani si prepara così ad ospitare l'evento in programma per il prossimo 13 agosto, a partire dalle ore 21. Sul palco artisti molisani, ma anche grandi ospiti, come ormai tradizione consolidata della manifestazione. Spazio dunque alla musica, ma anche alla ricerca scientifica, con la premiazione dell'Istituto Neuromedio di Pozzilli e alle tradizioni popolari con il premio assegnato quest'anno al Comitato Sant'Anna di Elsi. Il sindaco di Montorio, Nino Ponte, sostiene con determinazione l'iniziativa che rappresenta un vero e proprio investimento sulla cultura. Un esempio tangibile di come i piccoli paesi possano promuovere cultura. Anche in un periodo come questo, di ristrettezza economica, abbiamo grattato il barile, senza altri finanziamenti da parte di provincia, regione e altri enti, abbiamo fatto affidamento solo a nostre risorse. Ricerca dunque in primo piano con il contributo del Neuromed, centro di eccellenza della sanità molisana. Ringraziamo assolutamente il dottor Molino per l'incommeabile riconoscimento e l'occasione anche per poter in un certo senso illustrare, mostrare poi sul territorio quello che è l'impegno quotidiano che l'Istituto effettua. L'anima della manifestazione, Antonio Molino, è infaticabile. Nonostante le difficoltà economiche non molle, va avanti con determinazione ed orgoglio. L'orgoglio di chi ama la propria terra, con la quale resta un legame fortissimo. Ogni anno scegliamo un gruppo di artisti che fanno questa serata, che è conosciuto in tutto il Molise, arriva qualche volta anche fuori regione. Quindi diciamo una manifestazione che ha come intento quello di portare i grandi eventi nelle piccole comunità. Nel momento di crisi noi lo sentiamo molto di più perché i nostri comuni sono piccoli, i finanziamenti non ce ne sono, quindi fare il grande evento ci costa veramente tanta fatica. Cogliere dalla nostra terra proprio le espressioni più belle, e se non sono quelle musicali, quelle artistiche, quelle letterarie, insomma, quali potrebbero essere. Grazie.